Uomini e donne anticipazioni, all'over si arriva alle mani. Sabato 22 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato attraverso delle storie su Instagram ciò che è accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi. Queste le dinamiche sviluppate si attorno al trono over. Di seguito gli sviluppi relativi al trono classico, con i troni di Nicole e Luca. Grazie a tutti.